Oh, finalmente si rientra in scena. Siamo pronti. Eccoci qui ragazzi, finalmente si rientra in scena. Ragazzi, è veramente tantissimo che non porto un video qui su YouTube e finalmente mi ritrovo col cavalletto, la macchina fotografica e i softbox per registrare questo video. Devo dire che in questo tempo in cui non ho registrato video la mia vita è un po' cambiata. Il genere di video che vorrei portare da questo momento in poi qui sul mio canale è cambiato, si è modificato, si è arricchito e pian piano in questo periodo ho registrato dei video molto molto carini che vedrete di seguito a questo video che appunto caricherò il prima possibile. Ragazzi, io non mi sono mai presentato qui su YouTube con il mio vero nome. Dato che tra me e voi spero si riesca a distaurare un rapporto quasi di amicizia, vi dico che mi chiamo Gianluca Principato, ho 22 anni, sono nato il 31 marzo, sono uno studente universitario, vi interessa altro? Vivo a Napoli? Ma sì. Comunque se vi interessa altro scrivetemelo qui sotto nei commenti e vi risponderò tranquillamente. Ragazzi, come dicevo, ho intenzione di apportare delle modifiche a quelli che sono i video che ho portato sempre sul mio canale, principalmente e precedentemente. Ho portato sempre video riguardanti il mondo della tecnologia, recensioni tecnologiche, qualche vlog ma sempre inerente alla tecnologia. E con questo mese in cui non ho portato video qui sul mio canale, la mia vita è un po' cambiata, diciamo il mio stile di vita è un po' cambiato e vorrei apportare delle modifiche al genere di video e la quantità di video che porto qui sul mio canale. Ragazzi, i generi di video... Sotto a casa mia sta passando un trattore. Vabbè. Ragazzi, i generi di video che vorrò portarvi da questo momento in poi, qui sul mio canale YouTube e li ho finiti generi perché sono più di uno, riguardano la mia vita, tutto quello che sono le mie passioni e tutto quello che mi piace fare. Voglio condividere con voi e diventare un amico giornaliero, magari giornaliero se riuscirò mai a portare un video al giorno, per portarvi dei video dove vi parlo di quello che faccio durante la giornata, di prodotti tecnologici che mi piacerebbe recensire e quant'altro. Ad esempio, adesso mi è arrivato un S8 Plus e vorrò portarvi un video al riguardo di come mi sto trovando passando da Apple a Samsung. E proprio questo, ragazzi. Mi piace trasferirvi tutte le mie passioni e tutto quello che mi piace. Amo gli sport, amo i viaggi e tutto quello che gira intorno alla mia vita voglio portarlo qui sul mio canale YouTube. Vi premetto però che non lascerò mai la tecnologia e la passione che ho per il mio desk setup, tant'è che a breve uscirà un video dove apporterò delle piccole modifiche strutturali proprio al mio setup e vi porterò un video adatto per questo. Ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e spero di essermi spiegato al meglio per quanto riguarda le categorie di video che porterò qui sul mio canale, altrimenti vi guardate i video che vengono dopo, no? E vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale qui sotto e noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.